L'ufficio postale chiuso non apre prima delle 8.30 ma nemmeno dopo le 13.30 e addirittura è stato cancellato il mercoledì del cittadino per carenza d'organico. È la protesta di alcune donne cremonesi, single, costrette a prendere un giorno di ferie non per fare una gita o visitare una mostra, bensì per ritirare una lettera raccomandata nell'ufficio postale di via Giuseppina. Quando il destinatario non è in casa si sa riceve un avviso per ritirare la lettera nel punto indicato. La riorganizzazione delle poste con alcune nuove assunzioni dopo le proteste dei sindacati e dei comuni ha consentito di evitare ulteriori sistematici disservizi nel recapito della corrispondenza. Resta però il problema del ritiro delle lettere più importanti. In passato a Cremona c'era un unico punto di ritiro in via San Bernardo. L'anno scorso le poste hanno deciso per favorire gli utenti di indicare l'ufficio di prossimità, cioè il più vicino. Idea criticata in questi giorni per le difficoltà di apertura. Il personale, meno di 500 persone in provincia, infatti deve smaltire le ferie oppure sopperire a giorni di malattia dei colleghi o sostenere le chiusure estive. Si aggiungono poi pensionamenti e l'effetto quota 100. Gli stessi portalettere fanno i turni, che si concludono alle ore 21 del giorno di sabato, eppure la quadratura del cerchio è ancora lontana. Per chi vive da solo e lavora, come molte persone nella città di Cremona, è diventata una sciagura recarsi in orario lavorativo mattutino a ritirare un atto giudiziario per raccomandata, o un'assicurata, o comunque della corrispondenza delicata.